Su Fiambe e Daoui è probabilmente l'oggetto misterioso del mercato fin cui messo in atto dalla società bianco-verde. Il centrocampista marocchino classe 1990 arriva da un anno di inattività dopo aver giocato per un anno e mezzo in Serie B tra Crotone e Latina. A portarlo in Italia è stato il Parma che lo acquistò dall'Iers, squadra del massimo campionato belga. Le qualità del calciatore restano comunque indiscusse e bisognerà soltanto valutare la condizione fisica. A Crotone Sufiana si è messo in mostra disputando l'intero campionato 2013-2014 da titolare. Nella stagione successiva il Parma volle dargli una chance in Serie A, occasione non sfruttata da Bidaoui che a gennaio dopo sole quattro presenze nel massimo campionato italiano venne ceduto in prestito a Latina, dove nella seconda parte di stagione è scese in campo per 15 volte mettendo a segno due gol. Destro sa esprimersi con qualità e continuità su entrambe le fasce garantendo gol ed assist. Il calciatore di origine marrocchina emanato in Belgio si è legato dall'Avellino con un contratto biennale con opzione per il rinnovo. È senza dubbio uno dei più attesi, anche se molti considerano il suo acquisto una scommessa da parte dell'Avellino. Quello che ci auguriamo è che sia una scommessa vinta.